va Vittorini dritto in porta e fa un euro gol Manuel Vittorini pronto alla battuta tira, pallone ottimo e c'è il gol da parte di Mancini ottima punizione per il numero 9 della strea a Tiai finta, palla in mezzo la palla che entra in porta ed è un gol spettacolare segnato da Antonio Brogietti invece tira e fa un gol stupendo gol stupendo stupendo gol di Lalli il gol del Torre Nova va adesso dritto in porta trova un gol fantastico Starace lo schema riesce ed è 1-0 per la V3 ma Dovidio direttamente in porta una rete fantastica da parte di Dovidio una rete superlativa parte i corsetti e l'ha fatto ancora l'ha fatto ancora ma non è vero ma non è vero non è vero invece la tocca per la botta di Massimiani wow ma che gol il tiro e c'è un grandissimo gol pareggia il gol e ferro con supposizione del numero 8 qui scuola un grand gol ma c'è lì dritto in porta soluzione perfetta capolavoro di Federico Celli qui è qui è Grazie a tutti.